Blatta cotta nel cornetto di una nota marca, ragazzo di Casal di Principe finisce in ospedale una blatta cotta all'interno del cornetto sigillato uscito dalla confezione di una nota marca di dolciumi. È accaduto a Casal di Principe dove un ragazzo, figlio dell'ex vicesindaco Maria Rosaria Madonna, ha ingerito parte del croissant fino a che non si è accorto della presenza dell'insetto attaccato all'impasto. Poco dopo ha iniziato ad avvertire un malore allo stomaco e a vomitare. I genitori lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa, presentando denunce alle autorità competenti. A rivelare l'episodio è stata la stessa Madonna attraverso un post su Facebook, martedì mattina, mio figlio fa colazione con il cornetto, ma all'improvviso una sorpresa sconvolgente, una blatta cotta nel cornetto sigillato, mio figlio dopo ore di malore a vomito va in ospedale e denuncia alle autorità competenti, NAS, per far ritirare tutto il lotto. Queste cose non dovrebbero succedere in un'azienda di fama mondiale. Ma che ci fanno mangiare? Vi prego di condividere l'accaduto gravissimo. Spetta agli inquirenti, ora, comprendere se e come la blatta sia finita nell'impasto del cornetto e provvedere, eventualmente, a ritirare il lotto sospetto.